A imperitura memoria del legame centennale tra la Croce Rossa italiana e il territorio valdostano, quale espressione delle gesta delle tradizioni di un popolo che senza clamore rivolge da sempre il suo cuore e la sua mano ai vulnerabili in ogni situazione, con non comune sacrificio, senso del dovere e abnegazione. Ad onorare il nobile Sodalizio che fin dalla nascita vide lo sforzo e il dolore dell'uomo mitigato dall'umanità della mano caritatevole, la Valle d'Aosta, per alto merito delle sue genti e delle sue istituzioni, è da sempre mirabile esempio di piena adesione ai principi fondamentali del movimento. Grazie a questa motivazione la Valle d'Aosta è la prima regione italiana a potersi fregiare della medaglia d'oro al merito conferita dalla Croce Rossa italiana in una significativa cerimonia che si è svolta nel Salone di Palazzo regionale lunedì 7 maggio 2012 di fronte ad un numeroso pubblico e ai volontari della Croce Rossa. L'importanza di tale riconoscimento che ora si affianca alla medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana, ricompensa conferita alla Valle d'Aosta, anche qui unica regione in Italia, dal Ministero della Difesa nel 1971, è stata evidenziata dal Presidente della Regione Augusto Rolanden nel discorso di ringraziamento rivolto ai responsabili della Croce Rossa e ai volontari presenti alla cerimonia. È stato appena festeggiato il centesimo anno di attività, oggi questa medaglia rappresenta per la Valle d'Aosta un riconoscimento importante del ruolo che i volontari hanno svolto, quindi a loro il merito di questa medaglia che va ad arricchire un album già importante con la medaglia d'oro alla Resistenza che la nostra bandiera ha, quindi è un grande riconoscimento per la Valle d'Aosta e per tutti i valdostani. La cerimonia si è aperta con la proiezione in anteprima del filmato Ermelinda Duclé e tanti altri, la Croce Rossa in Valle d'Aosta, un documento di Stefano Viaggio realizzato dalla sede regionale della RAI che ripercorre la storia di questa instancabile volontaria morta su un aereo durante la Seconda Guerra Mondiale mentre era intenta a curare dei feriti. La Valle d'Aosta ha già dedicato a Ermelinda Duclé una piazza e una targa per ricordarla e in questo filmato, che sarà trasmesso su Ravidia nel mese di ottobre nella sezione programmi, è stata anche l'occasione per ripercorrere la storia di questa importante istituzione, mostra da sette principi fondamentali, ricordati in apertura di cerimonia. Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità. La Valle d'Aosta, con il suo sostegno alla Croce Rossa, ha portato avanti questi stessi principi e per questo legame il Comitato Regionale della Croce Rossa italiana ha spinto affinché il ruolo propositivo e questa vicinanza fossero premiati. La Valle d'Aosta è stata premiata con questa importante onoreficenza per volontà di questo Comitato Regionale. Tutti i soci del Comitato Regionale sono stati favorevoli a dare un segnale di vivo apprezzamento per la vicinanza che l'istituzione, che l'ente regione ci ha dimostrato nel corso degli anni. Sicuramente conferendo un'importante benemerenza al gonfalone, in realtà si concede la benemerenza a tutti i cittadini valdostani, vicini all'idea di Croce Rossa soprattutto in quest'ultimo anno in cui noi abbiamo celebrato il centesimo anniversario della ricostituzione del Comitato della Valle d'Aosta. Giuseppe Vernero, commissario del Comitato Regionale della Croce Rossa italiana, ha puntato la medaglia d'oro sul gonfalone della Valle d'Aosta, lasciando poi all'ino della Croce Rossa il compito di chiudere una cerimonia molto sentita.